Il Colori del Musical è un concerto teatrale che vuole raccontare in due ore di spettacolo l'atmosfera che si respira nei teatri e nei balcoscenici esteri con musical famosi quali Evita, Jesus Christ Superstar, Il Fantasma dell'Opera, Chicago, Cabaret attraverso canzoni anche molto famose e molto apprezzate. La scommessa di questo spettacolo che ho realizzato anche in varie parti dell'Italia consiste proprio nel lavorare su giovanissimi artisti del luogo prescelto in questo caso Sansevero in collaborazione con l'Adap Eventi che appunto ha richiesto il mio intervento abbiamo selezionato questi ragazzi che sono stati protagonisti di un workshop della durata di un mese e mezzo. Allora, uno spettacolo tutto dal vivo, sicuramente una grande conquista per noi Adap Eventi in collaborazione con la Maison de la Danze, la mia scuola di aver portato uno spettacolo di musical, di vero musical come Broadway quindi musica e canzoni dal vivo finalmente a Sansevero inserendolo in questa stagione che comunque non ha mai avuto al teatro uno spettacolo del genere quindi per noi sicuramente una grande conquista. iscriviti al nostro canale Grazie.